Amici di Legnaro Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Badini, parleremo di Tao Fitness con Fabrizio Poletti. Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Amico di Legnaro Web TV, mi sa che siamo venuti a trovarti nella palestra che si chiama Academy of Fighting, qua di fianco ai nostri studi. Esatto. Per oggi non sei qui per parlare tanto della tua palestra, ma di Tao Fitness, che è un metodo di allenamento e spiegaci di cosa si tratta. Ok, buongiorno a tutti. Allora, il Tao Fitness è, come stavo dicendo prima, un metodo di allenamento, un vero e proprio percorso, un allenamento consapevole rispetto a un allenamento estetico, un allenamento funzionale, è un allenamento consapevole. Sono anche l'autore del libro La felicità fa i muscoli tonici, che è in uscita su tutti gli stori il 25 gennaio, però chi ha la possibilità può riferirsi a me per ottenere una copia prima del 25 gennaio. Sono personal trainer, come stavo dicendo prima, sono presidente della palestra Academy of Fighting e ideatore di questo Tao Fitness, che è l'equilibrio tra allenamento interiore e allenamento fisico. Per dire un po' cosa si tratta, è proprio un metodo che all'inizio andiamo a scoprire insieme alla persona che seguo, o alle persone che seguo, perché comunque non è soltanto come un allenamento su una persona singola. Io sono anche istruttore di arti marziali miste e prima, precedentemente, sono stato anche un professionista di MMA e quindi andiamo anche ad allenare professionisti, semiprofessionisti, come responsabile dell'H-Team. H-Team di Roma e qui H-Team Milano, quindi abbiamo Roma-Milano in diretta. Quindi, con questo metodo andiamo prima di tutto a capire cosa blocca effettivamente il raggiungimento degli obiettivi di una persona. Quindi può essere a livello agonistico, come stavo dicendo prima, oppure soltanto anche come un obiettivo per dimagrire, per tonificare, per stare bene. Quindi lo step iniziale è come migliorare il rapporto con il proprio corpo. Quindi andremo a capire con questo metodo effettivamente tutti i pensieri, tutte le programmazioni, le credenze, gli schemi che impediscono di stare bene con se stessi. Contemporaneamente andremo ad applicare degli esercizi mirati, specifici per la persona o per il gruppo. Comunque per la persona, prendiamo adesso in considerazione la persona singola, per la persona, per andare effettivamente a risolvere questi schemi, a cambiarli in positivo e successivamente per realizzare l'obiettivo che ha la persona in sé. Ecco, nel libro è specificato tutto questo, immagino. Nel libro è specificato tutto questo, sì. Ecco, è disponibile anche online? È disponibile online, su Amazon, su IBS, sulla Feltrinelli, in tutte le migliori librerie praticamente. Ecco, invece parlando un po' della tua palestra, insomma, dicevamo prima che c'è qualche problema adesso a causa Covid, ahimè, purtroppo. Ovviamente non sei l'unico in tutta Italia, ma è un problema serio perché ci sono tanti mesi che siete chiusi. Sì, senza entrare nello specifico politico che non ci interessa, effettivamente. Siamo chiusi da tanto e purtroppo lo sport è vita, lo sport siamo in una nazione, secondo il mio punto di vista, siamo in una nazione in cui la cultura corporea è svalutata e sottovalutata. Voi pensate, nel libro lo spiego anche, effettivamente le tre materie che, secondo il mio punto di vista, dovrebbero essere insegnate a scuola, come per esempio l'anatomia. Partite, pensate soltanto se un bambino conoscesse come funziona il proprio corpo già dalle elementari. E non dico come spiegare l'anatomia a livello scientifico, ma come gioco. Come far scoprire al bambino, o alla bambina, il divertimento di essere in un corpo fisico. Io insegno tantissimo ai bambini, e secondo me è la cosa più bella di questo mondo, e ci sono bambini che anche a dieci anni non sanno come rotolarsi per terra. Questo vuol dire che siamo troppo sull'intelletto e poco nel corpo fisico. Quando il corpo fisico non funziona, significa che c'è qualcosa che non va. E, ritornando al discorso prima della chiusura, le palestre e lo sport è fondamentale. Quindi, qualsiasi sport, e non stiamo parlando soltanto per esempio di arti marziali o di altro, ma veramente qualsiasi sport, secondo me, è la miglior medicina che una persona possa usufruire. Si muove, si sfoga, abbiamo vissuto un lockdown totale, un altro semi-lockdown, e non lo so cosa succederà poi. E stare in casa effettivamente provoca malessere, cioè rinchiusi in quattro mura senza la possibilità di sfogarsi, senza la possibilità di... di... anche perché le palestre e lo sport è una forma di congregazione, una forma di... Certo, di aggregazione, anche soprattutto quello, di là dell'attività sportiva che ovviamente, diciamo, è fondamentale, ma anche lo spirito di aggregazione è a 70, no? Quindi, certamente per i bambini, soprattutto per i più giovani, è un grosso problema. Bene, grazie allora a Fabrizio Poletti, speriamo di rivederti presto con la tua attività, la tua palestra. Grazie a voi. Nel frattempo leggete il tuo libro. Assolutamente. L'editrice è Gruppo Albatros, che ringrazio infinitamente perché mi ha dato una grande possibilità. Bene, e con gli amici di L'Egnano TV, appuntamento alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti.